GAMEPRINCESS Non puoi leggere le carte per intuire qual è la storia, ma qui la storia è veramente narrata, ci sono addirittura delle cutscene, l'impressione è stata assolutamente ottima e coinvolgente, noi abbiamo giocato quelle che sono le primissime fasi di Destiny 2, quindi l'impressione della trama è stata ottima, ma tu che dici del gameplay? Ma io devo dire che il gameplay è rimasto praticamente invariato, quindi il feeling con le armi è praticamente lo stesso, la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che le modifiche che sono state fatte sono sottili, quindi avete una grande sensazione di familiarità col gioco, quindi calcolate che tempo 3 secondi e mezzo e vi abituate perché è come giocare a Destiny 1, questo non significa che è uguale, ma che hanno mantenuto le stesse caratteristiche, gli stessi controlli ovviamente, per permettere ai giocatori che hanno amato Destiny 1 di trovarsi a loro agio anche con il secondo capitolo, la cosa che mi ha colpito particolarmente e che sono sicura mi ha colpito anche Carlotta è che l'abbiamo giocato su PC ed è una figata assurda su PC Assolutamente, su PC è bellissimo e anche il feeling con mouse e tastiera è assolutamente tutta un'altra cosa Tra l'altro il monitor che abbiamo utilizzato era un monitor 4K, quindi si vedeva in una maniera che non ne avete idea, c'erano degli effetti grafici, degli effetti particellari che erano veramente spettacolari, quindi la versione PC promette veramente veramente bene Anche se arriverà dopo rispetto a console, però se siete dei PC si aspettate perché ne varrà secondo nella pena Qui è tutto, vi ringraziamo di averci seguito, continuate a seguire tutti i nostri canali, il sito, se volete sapere tutto quanto di questo e tre Un sacco di like, un sacco di iscrizioni se ancora non l'avete fatto, di commenti, di condivisioni, di tutte cose, seguiteci sui social, ricordatevi l'hashtag Princess in Lele che vedete da sopra la mia testa più o meno indicativamente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao